D'accordissimo, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, per essere molto franchi noi ci sentiamo abbandonati dall'Europa o ci sentivamo abbandonati dall'Europa fino a qualche mese fa. Stiamo percependo una palpabile differenza con il nuovo commissario sulla migrazione, il greco Avramopoulos che ha una comprensione maggiore della situazione mediterranea, questo lo devo sottolineare io sono molto critico della commissione ma quando c'è un cambiamento positivo lo devo dare come credito e la verità è questo momento che l'Italia è che si sta facendo carico di queste responsabilità europee e noi come Malta siamo un piccolo paese, abbiamo degli assets militari molto limitati ma il 100% delle nostre disponibilità militari e di guardia costiera sono tutte devote alla questione immigrazione. Tutto il nostro budget della difesa va sulla questione immigrazione e per un piccolo paese questo è molto. Noi stiamo facendo carico di responsabilità europea ma la priorità numero uno a questo momento è stabilizzare la Libia.